Complimenti a Gabriele Mundola, giovane studente di architettura della Polimì che ha vinto il concorso Italserramenti 20 più 20 più 20 con un progetto wall window. Gabriele ci racconti qualcosa di più sul concept e su come ti è venuta l'idea? Innanzitutto grazie a tutti, in poche parole diciamo che il concept nasce da un'esigenza comunque che non riguarda noi come persone ma bensì il nostro pianeta e tra tutti i problemi che sta affrontando il nostro pianeta, l'inquinamento, il surriscaldamento proprio quest'ultimo è stato comunque il punto iniziale, il punto di forza di questo progetto perché comunque alla fine l'inalzamento delle temperature è un qualcosa che noi non possiamo evitare rispetto comunque a tutti gli altri tipi di inquinamento perché comunque paradossalmente diciamo che se domani mattina l'uomo smettesse di produrre plastica in giro di qualche anno comunque questa cosa qui riuscirebbe a diminuire, a scendere di importanza, però comunque l'inalzamento delle temperature è qualcosa che non possiamo evitare perché non dipende da noi, dipende comunque dal sole e dal fatto che noi come esseri umani stiamo in qualche modo accelerando questa parte, quindi il progetto nasce in qualche modo da queste prime considerazioni, dal fatto che appunto l'inalzamento della temperatura è qualcosa che non possiamo evitare, l'unica cosa che possiamo fare è contenerla e il progetto di Wall Window in maniera molto semplice sfrutta un materiale di ultima generazione che comunque stanno studiando soprattutto in quest'ultimo periodo la NASA, anche l'Unione Europea ha stanziato un sacco di fondi per questo materiale materiale ed è il grafene, il grafene è un materiale che comunque ha un sacco di proprietà assurde, non indifferenti perché comunque riesce a gestire tante cose nello stesso momento è un materiale che presenta per quanto riguarda la parte di costruzione una struttura molecolare molto fitta ma anche molto regolare e nello stesso momento è sia conduttore che un materiale molto trasparente e soprattutto anche è un materiale che comunque per quanto sia sottile è duro tanto quanto l'acciaio, quindi è un materiale veramente dalle proprietà infinite e il progetto di Wall Window sfrutta questo materiale cercando proprio di creare qualcosa che in qualche modo oggi non esiste ma che potrebbe comunque essere il futuro, nel senso la finestra per come la intendiamo oggi non presenta più la parte di vetro, non ha più la cornice esterna ma diventa un muro, quindi è una sorta di visione barra provocazione nel senso che per come abbiamo noi adesso gestito le risorse del pianeta dobbiamo in qualche modo trovare la parte creativa che ci permette di raggiungere questo risultato o anche altro però sfruttando sempre le risorse del nostro pianeta e soprattutto i materiali di ultima generazione perché quelli che abbiamo adesso forse non sono così adatti per riuscire a risolvere i problemi ambientali.